che emozione c'è vedere questa piazza mamma mia ma sono tantissimi vale come un'altra medaglia il caloroso abbraccio dei motolesi in onore del rientro della campionessa olimpica Antonella Palmisano medaglia d'oro nei 20 chilometri di marcia a Tokyo sono state tante rinunce questo è vero curare ogni singolo momento ogni dettaglio questo sì però sacrificio è quello che ci piace fare e quindi quando poi arrivano queste medaglie importanti neanche pensi ai chilometri che hai fatto certo c'è solo un po' di mal di schiena però questa è la festa di Antonella ma anche la festa della nostra città Motola diciamo che anche in passato ha già dimostrato di avere una grande passione per lo sport tant'è che già Luigi Mastrangelo ci ha portato a casa tre medaglie olimpiche un argento e due bronzi e finalmente ora però è arrivato l'oro di Antonella quindi diciamo che c'è una tradizione sportiva di tutto rispetto nella nostra città Beh Antonella può essere per noi soprattutto per i giovani per i valori che esprime anche quelli che sono i valori dello sport del sano confronto agonismo noi siamo convinti che la nostra terra continuerà a distinguersi in positivo Grazie Antonella